Un calcio sostenibile, green, riciclato, speriamo non riciclabile perché le nostre passioni devono rimanere tali, gli sponsor finalmente riempiono le nostre maglie, c'è questa voglia di fare bene con la maglia del Napoli perché ci aspettano sfide importanti con grandi club del nord, multinazionali, noi siamo un club di azionato popolare diffuso di napoletani che oltre ad essere soci sono anche spesso sponsor della maglia e questa nostra unione, questa nostra sinergia potrà portarci veramente a dei traguardi che il Presidente sottoscritto si auspica che a breve possiamo auspicare quello che non riescevamo al maschile a farlo al femminile, che non esiste Carpisa Yamamai, che è sempre stato così perché eravamo gli sponsor anche nel 2004 non ero io il Presidente, ero solo lo sponsor, però purtroppo ci identificavano sempre con i miei brand, ad oggi si può dire che finalmente inizia una nuova era, inizia la riconoscibilità di questo brand nel Napoli, dobbiamo capire tutti che abbiamo una responsabilità enorme perché rappresentare questa città bellissima è uno sport che sicuramente negli anni che verranno saranno sempre più determinanti e sempre più importanti, quindi dico sempre, io sono un Presidente di tanti Presidenti, siamo in 22 in società, forse a settembre saremo 40-50, il Presidente va eletto in base ai risultati, speriamo che i risultati quest'anno mi daranno ragione e farò ancora il Presidente del Napoli, altrimenti se non dovessero venire i risultati auspicabili il Presidente è pronto a farsi da parte ma sempre e comunque vicino a questa squadra. Sì, i nostri prodotti sono prodotti estremamente sostenibili che hanno una comunione di valori importanti con quelli che sono i valori del Napoli femminile e la nostra volontà è quella di fare in modo che due valori importanti come la sostenibilità e i valori dello sport, i valori della fratellanza, i valori dell'unione che possono trasmettere le calciatrici del Napoli femminile si possono legare per trasmettere alle persone quelli che sono degli aspetti fondamentali della nostra quotidianità, ovvero essere attenti al nostro pianeta, essere attenti al nostro ambiente e soprattutto essere in comunione per dei valori importanti. Sì, l'aspetto del bambù è fondamentale nel nostro prodotto in quanto è un prodotto innovativo dal punto di vista dell'abbigliamento, ha delle caratteristiche nuove per quanto riguarda la capacità di tenere caldi i piedi durante l'inverno, di essere traspirante durante l'estate quindi può essere utilizzato 12 mesi sull'anno e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sportivo che è fondamentale un'attenzione a questo tipo di caratteristiche per quanto riguarda un atleta. Ci tengo a sottolineare anche l'importanza dei testimonial del Napoli femminile, quindi dei valori che loro vogliono trasmettere, che sono molto affini a quelli della sostenibilità che è molto importante in questo periodo storico.